Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video introduco una nuova serie che chiamerò Advent of Code 2021. Per chi non conoscesse Advent of Code fondamentalmente è un evento che si tiene annualmente nel mese di dicembre in cui in ogni giorno del mese sono proposti due problemi computazionali, lo stesso problema però con due versioni diverse del problema e il compito è quello di capire il problema, scrivere un programma che lo risolve, ottenere una risposta e submittarla al sistema. Per ogni problema c'è un input, quindi ci fa scaricare dei dati di input e a partire da questi dati di input dobbiamo risolvere il problema e ottenere la risposta. Io attualmente ho fatto i primi tre giorni di questo Advent of Code, è la prima volta che lo faccio e devo ancora fare il quarto, ma volevo riportare la soluzione per il primo. Tra l'altro io su GitHub le sto caricando queste soluzioni, le sto scrivendo in Python, non sono particolarmente pulite o deleganti in termini di codice però funzionano rispetto al problema e quindi sarà una specie di pratica per programmazione Python. Quindi in questo video introdurremo il primo problema e cercheremo di risolverlo. Spero che questa serie sarà interessante, sarà un modo per imparare effettivamente a utilizzare Python per risolvere problemi e buona visione. Quindi per iniziare a risolvere questo problema io solitamente setto questo template, quindi creiamo il nostro file ausi1.py perché è un file Python, lo apriamo, scriviamo lo shebang, nuovamente stiamo programmando in Python, bin and Python 3. Dopodiché io scrivo sempre if name uguale main e poi qua in main chiamo due funzioni, part1 e part2. Funzioni che ovviamente devo definire, perché? Perché ogni problema di advent of code ha due parti e quindi ho due funzioni che me le risolvono, part1 e part2. E qua metto un commentino. E quindi ho questo template perché solitamente i problemi di advent of code richiedono due parti, una prima parte e una seconda. Dopodiché però per ogni problema, quindi entrambe le parti alla fine di ciascun problema, utilizzano lo stesso, gli stessi dati. Sono due modi diversi di processare gli stessi dati. Ora come funziona l'acquisizione del file dei dati? Bene, l'idea è che per ogni problema nuovo, tipo io di nuovo ne ho il quarto, perché i primi te li ho risolti, ho il quarto, e qui c'è sempre la descrizione. E poi a un certo punto lui mi dice, ok, prendi il tuo input puzzle qui, io ci clicco e lui mi dà questo input puzzle, che sono tutti dati da risolvere. Questo è per il quarto problema. Per il primo problema invece, l'input puzzle ha questo url, però per prendere questo coso, io devo essere loggato al sito tramite github o altri tipi di account, quindi devo essere autenticato, perché se io faccio con curl così, senza nessun cookie, lui fondamentalmente mi dice che il puzzle dipende dal tipo di utente e quindi devo loggarmi per prendere il puzzle. Però una volta che lui, io mi sono loggato, sono andato al problema e ho cliccato su get your input puzzle fondamentalmente, anzi qui get your input puzzle, io qui lo posso scaricare semplicemente facendo un salvagone nome e me lo salvo come input.txt. E quindi qui su imax adesso mi posso aprire fondamentalmente il mio input e diciamo il codice. Ora, qual è l'idea di questo primo puzzle? Bene, fondamentalmente l'input è una serie di numeri, come possiamo vedere qui, abbiamo tipo 129, 200, 208, abbiamo una serie di numeri. E noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo calcolare fondamentalmente il numero di volte in cui c'è un incremento da un numero al successivo. Tipo qua ho un incremento di più 1 e quindi questo me lo devo salvare. Qui ho un incremento di più 8 e quindi questo me lo devo salvare. Qui ho un incremento di più 2 e quindi questo me lo devo salvare. Qui invece ho un decremento di meno 10 e quindi questo non me lo devo salvare. Ora, per ogni incremento io mi devo aumentare il valore di una variabile contatore, quindi è come se facessi count plus 1, diciamo, sto aumentando il valore di una variabile contatore e alla fine devo ritornare il numero di aumenti che ci sono stati tra queste cose. Infatti qui per esempio dice che in questo caso abbiamo che appunto da 199 a 200 c'è un incremento, da 200 a 208 c'è un incremento, da 208 a 210 c'è ancora, da 210 a 200 no, decresce e quindi alla fine devo sommare di 1 tutti questi incrementi, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e quindi il risultato finale è 7. E poi lui ci chiede, ok, quanti incrementi ci sono stati in questo input file? Notiamo che qui l'input file è molto grande, tipo inizialmente abbiamo un incremento perché si passa da 1, 7, 4 a 1, 80, quindi avremo un incremento di più 6, quindi la nostra variabile passerebbe da 0 ad 1, quindi count qui sarebbe 1. Dopodiché io che faccio? Qui c'è un decremento di meno 1, quindi questo non lo conto. Qui c'è un incremento di più 7, quindi questo lo conto, quindi qua count è uguale a 2. Insomma lo devo fare, però questo lo devo fare non soltanto per le prime righe ma per tutte le righe dell'input ed è per questo che Python lo utilizzeremo come il nostro tool per risolvere questo problema. E quindi cerchiamo di capire come si può utilizzare Python per fare una cosa del genere. Bene, l'idea ovviamente è che l'input ci è dato sotto forma di testo e quindi dobbiamo leggere un file di testo e quindi la prima cosa che faremo in entrambi le due parti sarà aprire un file e possiamo aprire un file con queste sintassi. Withopen, qua mettiamo il nome del file che sarà input.txt, qua mettiamo il modo in cui vogliamo leggere il file che sarà in modalità read e poi qua facciamo asf. In questo modo lui che ci sta creando? Ci sta creando un blocco di esecuzione, uno scope qui dentro, tutto indentato perché in Python le indentazioni hanno un valore semantico che rappresentano lo scope semantico a cui ci stiamo riferendo. Qui dentro io potrò utilizzare questa f per riferirmi al file. Quindi con una f io mi sto riferendo al file input.txt e questa sarà l'idea. Ora che cosa dobbiamo fare con questo file? Anzi prima di aprire il file ovviamente abbiamo il result, il risultato finale che sarà il numero di incrementi che sarà inizializzato a zero e quindi che faccio? Apro il file, a questo punto lo devo leggere. Io in particolare voglio leggere ciascuna riga del file e per fare questo posso utilizzare il metodo lines uguale f.readlines. Ora se io faccio questo in lines avrò una lista di righe. Se io per esempio faccio printlines e eseguo questo codice, lui che mi fa? Lui mi chiama queste due funzioni. La prima ovviamente mi apre il file, mi legge le righe e mi le stampa e tra l'altro notiamo questa cosa. La sintassi width a che serve? Perché è comoda? La sintassi width è comoda perché lui mi sta aprendo una risorsa che è questo file, come in read mode, me la sta associando a questo simbolo f, ma poi io non devo, qui non ho soltanto il codice per l'apertura, non ho il codice per la chiusura del file. E perché non ho il codice per la chiusura? Perché con la keyword width io sto aprendo un nuovo scope. All'interno di questo scope io posso utilizzare il file f, tipo come faccio qui per fare i readlines, ma una volta che esco, quindi una volta che io esco da questo scope, una volta che vado giù per esempio e qua scrivo altre cose, tipo qua magari posso scrivere result, posso tipo stampare result, che ne so. Dopo questo width, quindi quando esco da questo scope e ritorno nello scope di prima, f non è più disponibile e le risorse associate ad f vengono deallocate automaticamente dall'interprete. E quindi questo è comodo perché mi permette solamente di gestire l'apertura delle risorse e la chiusura viene lasciata in modo automatico all'interprete. È molto molto comodo. Quindi se noi andiamo ad eseguire questo codice, che cosa ci dà? Ci dà fondamentalmente, quindi faccio ausi1, ci dà una lista, è una lista molto molto grande, se noi lo andiamo a vedere qui è una lista molto molto grande, di fondamentalmente cosa? Diciamo numeri e poi c'è questo slash n che sarebbe il new line, perché nel nostro input, se ne andiamo a vedere, abbiamo numero e poi a capo, numero e poi a capo, numero e poi a capo, numero e poi a capo e questo è molto molto importante. Dopodiché, quindi questo è il modo per leggere le righe, dopodiché noi che vogliamo fare? Vogliamo dire ok, ci dobbiamo, dato che dobbiamo salvare il numero di incrementi, cioè qual è l'idea? L'idea fondamentalmente sarà, io ho questa serie di numeri, tipo 100, 200, 150 eccetera, io voglio capire gli incrementi. Ora per capire l'incremento mi devo sempre salvare il valore, un valore della serie, questo sarà il mio primo valore, lui me lo salvi in una variabile last val, dopodiché a questo punto io scorro dal secondo in poi, ok, dal secondo in poi dico ok, ma questo numero che chiamerò current val, che chiamerò current val, questo numero è più grande di last val, perché se è più grande allora devo fare più uno all'incremento, altrimenti devo, che cosa devo fare? Devo fare uno swapping, last val fondamentalmente diventa questo cur e il cur diventa il successivo, quindi è come se io aumentessi essenzialmente un, tipo io qua i numeri avevo 199, 200, 208, 210, 200 e via dicendo, io tipo una cosa del genere e quindi per ente ogni volta mi devo mantenere una specie di due riferimenti, il riferimento al numero di prima è quello al numero corrente e dico se il numero corrente è più grande di quello di prima ho un più uno. Dopodiché una volta che ho fatto questo confronto devo passare, è come se io stessi shiftando questa finestra di una posizione e quindi adesso il numero corrente sarà 200 e il numero di prima sarà 208 il numero corrente, quindi questo sarà il numero corrente e questo sarà l'ultimo, quindi facciamo che con L dico l'ultimo numero e con C dico il numero corrente. Adesso 200 è più grande di 199, quindi qua un più uno, dopodiché questo qui non sarà più questo ma questo sarà last, 200 sarà il last e 208 sarà il corrente, 208 è più grande di 200 quindi è un più uno, adesso last è 208 e corrente è 210, il corrente è ancora maggiore di last e quindi ancora più uno e quindi last diventa 210, ora però il corrente è 200, 200 non è maggiore di 210 quindi qua non devo mettere il più uno e continuo così e alla fine praticamente mi sommerò tutti questi più uno e arriverò a tipo la risposta che in questo caso è 3. E come faccio a fare questo? Bene appunto l'idea è quella di avere, last val me la inizializzo come lines di 0, ora notiamo che lines di 0 è per accedere al primo elemento della lista no? Perché abbiamo visto che la lista lines contiene una serie di numeri e poi new line, numeri e poi new line, 174 è il primo numero della lista che sarebbe il primo numero dell'input, questo 174 e questo me lo devo segnare come il primo last value in un certo senso e quindi faccio così, però notiamo che in questo modo io che cosa sto facendo? Se adesso io ho printo last val, lui che cosa mi stampa? mi stampa 174 e poi però notiamo questa cosa, non solo mi stampa 174 ma mi mette anche un new line, se io non voglio un new line devo castare questo valore ad intero e lo posso fare in python con questa sintassi int, se adesso lo richiamo lui mi stampa solo 174 non c'è più quella new line di prima, non vi ha più a capo, perché allora diciamo la print di default manda a capo una volta, ma qui avevo a capo due volte perché c'era pure il new line preso proprio da last val, in questo modo io non ce l'ho, quindi per esempio io faccio int di lines di 0 e questo è il last val. Dopodiché che devo fare? Devo scansionare tutte le linee, a partire però dalla seconda in poi e quindi devo utilizzare l'operatore slice di python per dire, guarda dammi questa lista ma considerami solamente gli elementi dal secondo in poi e quindi qua devo mettere l'indice del primo elemento che sto considerando. ora ricordiamo che le liste in python iniziano da 0, quindi il primo elemento della lista sarebbe l'elemento 0 con indice 0, il secondo elemento della lista sarebbe quello con indice 1 e quindi per esempio se io ho una lista python formata da A, B, C e D e diciamo che io dico questa è L, allora se io faccio L con questo slice, 1, 2 punti fino alla fine, lui mi sta rappresentando la lista B, C, D. Cioè io considero solamente quelli dal primo indice in poi se io dico L di 3 due punti fino alla fine, quindi metto questi due punti e poi qua non metto nulla, sto considerando dall'indice 3 quindi questo è l'indice 1, 0, 1, 2 e 3 quindi qua sarebbe la lista solamente con D. Infatti se io diciamo faccio per esempio se io faccio L uguale a B, C, A, B, C, D e faccio print L di 3 fino alla fine, qui mi stampa syntax error perché qui ovviamente devo mettere due punti e poi pass perché non faccio nulla in questo scope e qui ovviamente che faccio line in lines, 1 lines perché sono le righe, le righe del file e qui lui mi stampa la lista con solo D come avevo fatto vedere prima. Io vi faccio invece uno, mi stampa la lista con B, C, D e questo è l'operatore slice di Python ed è molto utile per fare cose del genere. Quindi io dico ok, i termini da tutti gli elementi però escluso il primo e che devo fare? Devo prendere il valore corrente che sarà int di line perché in questa variabile line di volta in volta ci andrà il prossimo elemento della lista perché questo è un tipo di iterazione for offerta da Python e dico ok perfetto, se if last val è più piccolo di curve val che vuol dire? Vuol dire che un incremento got an increment, ok qui i commenti vanno così. E quindi devo aumentare result plus qualsuno, cioè sto incrementando di uno la variabile result. A questo punto io però devo fare un'accortezza perché adesso mi devo ricordare di swappare. Adesso quale sarà il valore precedente? Non sarà più last val di prima ma sarà il current val di adesso. Quindi last val sarà uguale a core val. E questo praticamente implementa questa specie di swapping che dovevo fare. Cioè se io inizio con, inizialmente ho che last val è 199. Quindi inizialmente io ho last val 199 e curve val è 200. Io faccio questo confronto, ok vedo che questo qui è maggiore di last val quindi incremento di 1. Però adesso io last val lo devo aggiornare perché il prossimo elemento 208 io non lo devo confrontare con 199 ma con 200. e quindi adesso io qui prima di andare alla prossima iterazione io dirò ok però adesso last val sarà 200 e curve val, il valore corrente, sarà 208. Così che quando io confronto curve val con last val sto effettivamente confrontando l'elemento con il precedente e non con due precedenti prima. E quindi ho questa idea e alla fine una volta che finisco questo for loop in result qui avrò il risultato finale e quindi posso dire per esempio print, faccio una format string, f result of part 1 e qua metto result. E se io lo eseguo, vediamo un po', lui mi dà result of part 1 1316 che è proprio la risposta 1316. E quindi questa è la prima parte della, diciamo, di questa challenge. Dopodiché la seconda parte è molto simile alla prima però ci dice piuttosto che considerare solamente incrementi di uno, cioè finestre di un solo elemento, cioè che io confronto 200 con quello precedente e basta. L'idea è quella di considerare finestre di tre measurement, cioè di tre misure. Della serie io prendo i primi tre e questi mi rappresentano una singola finestra, un singolo valore. Io li sommo, tipo farei 199 più 200 più 208. Dopodiché prendo la prossima finestra, è una finestra sempre di tre measurement, quindi non sarà, non dovrò più fare, qui quella è l'idea, l'idea è che non dovrò più fare il confronto tra 129 versus 200. Ma adesso devo fare il confronto tra 199 più 200 più 208 che è la prima finestra versus la seconda finestra che è questa B che sarebbe 200 più 208 più 210. Se la finestra successiva è maggiore di quella precedente allora ho sempre l'incremento di uno, altrimenti no, quindi io devo considerare sempre gli incrementi ma non più gli incrementi di finestre di un solo elemento, ma incrementi di finestre di tre elementi e quindi è leggermente più complesso anche se comunque l'input è lo stesso e quindi l'approccio sarà più o meno lo stesso. Soltanto che qui questo controllo non lo dovremmo fare semplicemente basandosi su un singolo numero, ma su più numeri. E poi alla fine quando arriviamo a un punto in cui, per esempio, se noi arriviamo qui al penultimo elemento, qui non abbiamo più una finestra di tre elementi. Perché? Perché poi ne abbiamo successo solo uno, non abbiamo un terzo e quindi qua ci fermiamo. Quindi noi ci fermiamo essenzialmente al terz'ultimo numero. Al terz'ultimo numero calcoliamo l'ultima finestra, che in questo caso è la finestra H, che equivale a 269 più 260 più 263. Quindi arriviamo a questa finestra e una volta che siamo arrivati a questa finestra sommiamo il tutto e ci fermiamo. Ora come possiamo implementare in pratica questo tipo di cosa? Bene, nuovamente abbiamo resalt uguale a 0 che ci rappresenterà il numero di incrementi. Apriamo il file come prima, input txt e poi faccio r as f. Leggiamo le righe f read lines. Ora qui però ci servirà un'altra cosa, ci servirà di calcolare la lunghezza di tutte le righe, len di lines, per sapere quando è che ci dobbiamo fermare. E qui utilizzeremo un indice, uguale a 0. E questo indice ci farà capire ogni volta, ci permetterà di calcolare la finestra di tre elementi a partire dall'elemento corrente. Quindi facciamo last val, qui facciamo last val uguale a meno 1, perché last val rappresenterà sempre il valore dell'ultima finestra, ma prima era calcolato rispetto ad una, diciamo, finestra di un solo elemento. Qui adesso sarà calcolato rispetto ad una finestra di tre elementi. Quindi prima di calcolarla conturriamo if length è più grande di tre, cioè perché se noi abbiamo un input totale che ha meno di tre elementi, non possiamo nemmeno calcolare questa finestra. E quindi, diciamo, faccio così, se la, anzi facciamo così, se la length è più piccola di tre, allora dico print, print, error, anzi più che error, info, could not compute starting value. Ok, poi faccio un return, altrimenti vuol dire che ho almeno tre elementi e quindi posso calcolarmi la prima finestra. E come mi calcolo la prima finestra? La prima finestra sarà sempre la stessa idea, quella di fare int lines, ma non più int lines di zero, ma int lines di zero più int lines di uno più int lines di due. E questa sarà la nostra prima finestra che qua è rappresentata da, sarebbe 199 più 200 più 208 che nel nostro input sarà 174 più 180 più 179. E infatti se noi stampiamo questo last val, faccio semplicemente print last val e noi chiamiamo python, lui ci dà 533. Perché? Perché se io prendo fondamentalmente qui, che era, se io prendo questi tre numeri, io prendo questi tre numeri e faccio la loro somma, faccio più questo e questo, questo è il codice Alice perché lo posso eseguire in IMAX, faccio evil region, lui e poi ovviamente lo devo fare così, lui mi dà 533 nel buffer messages, mi dà 533 che è proprio la loro somma e quindi è corretta effettivamente. Dopodiché, come possiamo continuare? Bene, a questo punto noi dobbiamo fare lo stesso compito di prima, cioè dobbiamo iterare rispetto a tutte le altre righe. Ma questa volta però non dobbiamo semplicemente iterare le righe in questo modo, perché in questo modo noi una riga la vediamo una sola volta. In quest'altro caso invece che dobbiamo fare? Dobbiamo fare così, dobbiamo fare for i in range 1 length, questo for i in range fondamentalmente è un altro loop che fa variare la variabile i da 1 a length meno 1, che sarebbe la fine della lista. E perché dobbiamo fare questa cosa? Dobbiamo fare questa cosa perché questo i rappresenterà la particolare, l'inizio della finestra che dobbiamo considerare. Quindi inizialmente lui ovviamente sarà, partirà da questo 180 e quindi noi ci andremo a calcolare i sarà 1 e quindi noi andremo a calcolare la finestra sarà formata da i, i più 1 e i più 2. Quindi da questi tre numeri che sommati ci daranno diciamo la finestra che poi dovremmo confrontarla con la precedente che era formata da questi altri tre elementi. Quindi è come se noi dovessimo confrontare finestre del genere. E quindi questa più o meno è l'idea. Quindi noi facciamo questo for i, diciamo ok, curve val, faccio sempre meno 1, dico se i più 2 è più piccolo di length, con questo controllo che sto verificando, sto verificando se sono arrivati alla fine. Perché se sono arrivati alla fine, i più 2 sarà proprio uguale a length e quindi non ho più elementi da considerare e quindi sono praticamente arrivati a quella situazione dell'input descritta in questo modo. Cioè se per esempio i sto qui, no? I punta a questa riga, a questa particolare riga, allora i più 2 sarà, i più 1 sarà questo e i più 2 sarà più grande della lunghezza. Ma anche se, esatto, mentre se i punta a questa, i più 1 sarà questa qui e i più 2 sarà length meno 1, perché la prima sarà 0, l'ultima sarà length meno 1. E quindi va bene. E quindi questo controllo è semplicemente per fermarci quando abbiamo finito le triple da considerare. E quindi dico ok, curve val adesso, come me lo calcolo? Me lo calcolo facendo semplicemente questo tipo di operazione, però non più con 0, 1 e 2 arcoded, ma con i, i più 1, i più 1 e i più 2, i più 2. E quindi poi per calcolare il valore curve val, che cosa faccio? Faccio int, sempre int di lines 0, 1, 2, ma non più 0, 1, 2 arcoded, ma di i, i più 1 e i più 2. E quindi questa sarà la finestra attuale di tre elementi. Altrimenti faccio un break per uscire dal loop perché ho finito, perché ho finito tutte le cose da considerare. A questo punto diciamo, se last val è più piccola di curve val, cioè se la finestra attuale è più grande, c'è un incremento, risalta sempre plus equal 1. E esattamente come abbiamo fatto in questo aggiornamento nella parte 1, dobbiamo aggiornare il valore dell'ultima finestra in modo tale da mantenere, diciamo, corretto l'esercizio che dobbiamo fare. E a questo punto una volta che usciamo, quindi una volta che usciamo da questo for, possiamo stampare esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi mi copio questo, faccio così, faccio così, result of part 2, result. Quindi luce di 1.344, vi do un po' se è giusto. 1.344, è quindi giusto. E questa è la risposta al secondo, alla parte 2 del primo problema. Questo codice non è proprio super super ottimizzato, sicuramente si può fare molto di meglio. Se avete del feedback su come scrivere in modo più elegante, scrivetelo pure nei commenti. E al prossimo video.